Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di una nuova serie dedicata a Sid Meier Civilization 6 Gathering Storm. Chi mi ha seguito su questo canale sa che aveva annunciato la fine di Civilization 6, ma 2K ci ha fatto una sorpresa, ossia ha rilasciato un bel contenuto DLC pieno di leader inutili al costo di 19€, ma ha rilasciato un leader che è Giulio Cesare, gratuitamente, e avete visto dalla copertina e dal titolo, lo voglio assolutamente provare. Allora, io non ho ancora messo le mani sul DLC e penso che non lo acquisterò, sto facendo anche molta fatica a mettermi in contatto con 2K, nel caso volessero girarmi la chiave, ma ci sono dei leader che mi sembrano un pochino debolucci, e vabbè, a parte Abelín con Rances, c'è gente completamente inventata per portare dei nuovi leader, e poi non ci mettono mai la civiltà dell'Italia e quindi ho il dente avvelenato. Ma a parte questo, fatta questa premessa, Giulio Cesare mi intriga, giocatore singolo, crea partita, dai, la proviamo, la proviamo. Dov'è Giulione? Allora, Giulione, dovete sapere, calisessi bonus catraiano, tutte le stelle portano a Roma, legione terme, ma al bonus personale è diverso, chiaramente, essendo il secondo leader. Vemi, vidi, vichi, vichi, non vici, avete fatto liceo classico per niente, ragazzi. 200 oro ogni volta che hai conquistato una città per la prima volta, 100 oro quanto guadagnate quando avreste guadagnato oro da un'imposto barbarico, praticamente 130 invece che 30, e un 500 di oro quando si è conquista una città una volta scoperto l'acciaio. Giochiamo a difficoltà, divinità, standard, continenti, standard, e la testo. A me questo, ragazzi, sembra veramente un bonus molto situazionale. All'inizio, quando l'ho visto, mi sembrava una gran figata, pensandoci, mi sono detto, ma, quanto oro guadagno alla fine? Dipende da quanti campi i barbari trovo. Quindi esplorare in early game sarà una priorità assoluta, e poi tenteremo di fare una partita a guerra fondaia, a questo punto. Abbiamo anche la legione, che comunque aiuta molto fino al medioevo, penso che farò così. Dipende un po' tutto dallo start, piccola nota metodologica, cercherò di finire questa partita il più in fretta possibile, quando registro, adesso, quindi magari anche oggi, in modo da poterla postare tutta ai Patreon e agli iscritti con il programma abbonati di YouTube con clave, in modo che abbiate praticamente il pacchetto Netflix, la possiate guardare tutta in una botta sola. Se non siete parte di questa categoria, comunque la posterò tutta sul canale, ma un episodio uscirà al raggiungimento di 1000 like. Quindi quando vedrò che ci saranno i 1000 like, rilascerò semplicemente l'episodio successivo. Adesso, la partenza qua, oddio, ho visto partenze migliori, ho visto partenze peggiori. Qui la seta, non troppo lontana, non mi dispiace, le unità di pietra non mi dispiacciono, così come non mi dispiace il cervo sulla foresta. Qui c'è addirittura del gesso. Provo un attimo ad andare nell'entroterra, ho sbagliato, dovevo andare sulla costa. Fondo la città di Roma qui, dai, non perdiamo troppo tempo perché mi sembra fattibile. Allora, qui il 2-2 mi piace, poi cerchiamo di sbloccare il 2-2-1, quando avremo due abitanti, quest'altra casella. Partiamo con... io apro sempre con l'allevamento degli animali. Non mi sono molto preparato, eh. Ho attivato per sbaglio gli scout con i gatti. Lo dico subito, per favore, no battute. Tukey ha introdotto anche una sorta di DLC fin, nascosto, gratis, eh, in cui gli scout al post-avericano hanno i gatti. E io me lo sono ritrovato attivato, perché pensavo di non averlo. Invece ce l'ho, a quanto pare. A maggior ragione facciamo un guerriero. Ok. Perché? Perché il guerriero esploro, ma buttoci anche i barbari. Ok, qui abbiamo già un campo, bene. Sì, il territorio è il tipico di Roma, cioè nel senso... Fa cagare, però non è non troppo. Mettiamola così. Qui sblocchiamo oro e cibo. L'oro ci servirà così, guadagniamo subito questo pezzettino di territorio. Cardiff. Abbiamo trovato una città-stato. Sono i primi, fortunatamente. Che cosa ci dicono? Pino produzione della capitale, ma soprattutto che cosa ci dà Cardiff? Ecco qua. Le città ricevono più di energia per ogni edificio nel distretto porto. Che mi sembra un pochino una cosa, anche questa, poco utile all'inizio. Magari la conquistiamo, Cardiff. Gobustan. In tessete delle... Eh? Cos'è il Gobustan? Allora, sembra una casellina... È una meraviglia naturale. Sembra una casellina con... Fammi vedere. Con tanta cultura. Una meraviglia naturale che opera tre caselle fornisce cultura e produzione. Ok. Buah, va bene. Ok, intanto qui ho trovato l'incense. Qui ho trovato altri cervi, quindi tanta produzione vicino a un fiume. Non è male. Questa produzione non è affatto male. Oh, questa è una bellissima zona per una città. Qui in mezzo a queste due montagne ci sarebbe un ottimo distretto. È anche difendibilissima. E c'è anche Pericle. L'immortacci tua. Va bene. Speravo di avere trovato il posto per la seconda città e troviamo i Greci. Allora, che fondano Atene. Ah, ok. Qui abbiamo un campo barbaro. Adesso finalmente testiamo la potenza. Andiamo da Pericle. Neutrale. Lega di Delo. Prova simpatia per le civiltà che non entrano in competizione per realsi con le città-state. Ok, va bene. Miglioriamo le relazioni con gli Atenesi. Atenesi e Romani vanno molto d'accordo, come sapete. Ecco, mi stanno fondando la città proprio dove la volevo fare io. Sta cosa mi dà un fastidio. Ecco, adesso mi vanno a ciullare anche il campo barbaro che volevo prendere io. Però io... No, mi è morto a Roma. Mi è morto un abitante a Roma. Disastro naturale. Io qua inizio... Io qua inizio, ragazzi, eh. Allora, va bene. Tanto abbiamo cultura gratis grazie alla seta. Il Rubicone. Cioè, il fiume di Roma si chiama Rubicone, il fiume di Cesare. Non te, vero, eh. No, dai, ti prego. Tu che... Perché, perché... Perché i videogiochi così li sviluppano gli americani? Perché? Tu rimani fermo che non dai danno? Questi spingono, spingono. Bravi! Sono riuscito a rubare il campo. Che culo. Allora, credo che il motivo sia il seguente. Credo che i barbari, quando vedono un fromboliere, attaccano. Mentre invece, quando vedono un guerriero, non attaccano. Quindi sono usciti, e io gli ho cullato, 130 unità di oro. Che non è poco, perché fra poco compriamo addirittura già un costruttore. Ok, brava Roma. Fa anche un fromboliere adesso. So che dovrei aspettare di avere la carta, ma... Quindi qui vinciamo. Questa è una botta di culo. Questo compensa lo start me. Scredo dell'Evangelista. Allora, dentro questo villaggio troviamo un capolavoro che ci dà 4 fede e 8 turismo. A me del turismo interessa meno di 0. Però la fede mi serve, perché io adesso non sbloccherò il Dio Re. Ma sbloccherò subito la pianificazione urbana per avere un doppio punto di produzione. Quindi evito la carta di O Re per 10 turni e probabilmente riuscirò a sbloccare uno dei primi Pantheon, perché la fede è tanta in questo caso. Bene. Bene, bene, benone. Ok. Andiamo avanti. Allora, una cosa che vorrei fare, e molto rapidamente, è trovare i cavalli che non ho e vedere se ho il ferro. Quindi B-Line sulla lavorazione del bronzo. Perché se devo testare Cesare, devo fare le legioni. Se non ho il ferro, allora lo start non è me, è proprio la merda. Avanti. Comunque lo start è osceno. È osceno. Abbiamo il Rubicone che continua ad inondarsi. Non abbiamo spazio per fare le seconde città. Abbiamo i Greci che ci hanno già fetentemente preso il territorio migliore. Fate un po' incazzare, fatevelo dire. Va bene. Avanti. Allora, che cosa sblocchiamo? L'artigianato per avere l'agoghe. Disciplina. E a questo punto pianificazione urbana, perché la fede sta volando. Grazie a questa carta che abbiamo trovato. Corinto. Hanno già fondato tre città. Oh, bene un campo. E un emissario che mi va a Cardiff, immagino, per forza. Se riesco ad allearmi di Cardiff, comunque è una città stato alleata. Non si butta mai via, no? Ok, incontriamo Fez. Nuova città stato che vuole l'Eureka per la tecnologia Vela. Non abbiamo ovviamente nulla. Ok. Cerchiamo di portare il nostro flombogliere su questo campo. Continuiamo ad esplorare. Allora, devo esplorare il nord perché questa zona... Davvero, ragazzi, con tutto il bene del mondo fa cagare. Dovrei colonizzare questa costa senza avere nulla. Torniamo a casa che qui magari ci sarà da difendersi se i greci poi li prende male. Adesso abbiamo quindi due guerrieri e un frombogliere. Faccio uno scout e poi faccio un colonna. Attacchiamo di nuovo. Avanti. Ok, qui ci possiamo adesso fermare, fortificare, in modo che poi venga distrutto dal frombogliere che mi darà un bonus su l'arceria. E qui abbiamo dei barbari che si avvicinano. Chi sono? Eh, vabbè, sono gli scout di questo campo. Non è... È saggio da partito di lasciare... Ok, gli atteniesi dico... Sì, Pericle dice... Grazie che non attacchi le cittastate. Io dico grazie al cazzo. Attacchiamo qua. Ed è andata. Quindi boost sull'arco. Ce l'abbiamo. Prossimo turno prendiamo il campo. In questo turno vado ad acquistare il costruttore, così lavoro subito i cervi, il mais e poi la seta, quando possibile. Anzi, due mais e un cervo, va bene così. Qui facciamo zona di controllo. Qui prendiamo il campo. E il nostro gattone sale. Abbiamo già sbloccato il pantheon al turno 18. Il più piccolo record, perché è davvero difficile farlo in questo modo. Senza civiltà religiosa, senza botte come quella di prima. Tuttavia, non ho la possibilità di sbloccare il colono gratis con la fede. Cioè, c'è qualcuno che l'ha già sbloccato. E sta cosa veramente mi fa andare ai matti. Allora, fatemi pensare che cosa potrebbe avere senso in questa situazione disgraziata. Ho un po' di campi. Ho un po' di piantagioni. Ho un po' di pietano. Ho un po' di tutto e un po' di niente. Ragazzi, ci ho pensato un po'. Ma è una cosa talmente... È una start talmente strano che io mi prendo... Guardate, il rito di fertilità. Che al momento non mi serve. Però attendere è probabilmente una delle cose migliori da fare. Adesso vado a potenziare al massimo Roma. Tra l'altro qui avrei avuto più produttività, vabbè. Vado a potenziare al massimo Roma. E poi appena affondo un'altra città ho già un costruttore che me la migliora. Così Roma sarà ultra produttiva e mi cresce del 10% in più. Penso sia l'unica cosa da fare. Faccio un colono che poi porterò verso nord. L'unica zona che posso fondare è questa. E penso che lo farò per poi cercare di bloccare i greci qua sopra. Anche se la cosa mi dà un fastidio notevole. Ok, diamo una promozione. Spostiamo intanto le unità. Qui c'è un'altra promozione, me la facciamo dopo. Il gattone sale. Qui posso lavorare al campo. Allora, io qui potrei fare una manovra se fossi... Se fossi un pochino un figlio di un gattone. Potrei regalare le risorse bonus ai greci. Per evitare che mi attacchino. Perché comunque con uno start del genere facciamo abbastanza cagare. Ma visto che io sono peggio di un figlio di un gattone. Mi vado a inimicare i greci perché poi cercherò di fargli la guerra. E quindi la risorsa me la tengo io e vaffanculo. A parte che i... Scusate, i cervi non sono una risorsa bonus. Pensavo di averlo fatto sulla seta. Mi sono confuso. Ma vale lo stesso discorso. Non lo farò. Chiudiamo il turno. Quindi abbiamo due boost. Uno qua. E adesso grazie... Comunque grazie all'inondazione. Quattro cibo. Uno produzione. Due oro. Roma. Roma vola. Roma vola. Mi piace sta cosa. Poi lavoreremo la pietra. Sarà una città bella produttiva a un certo punto. Continuiamo a salire. Vediamo cosa... Ah, qui c'è la meraviglia naturale. Ok. Niente, tu rimani fermo in città. Questa torna in città a curarsi. Qui... E invece il guerriero sale. Proviamo a vedere se sulla costa troviamo la... Qui ad esempio ci sarebbe la possibilità di fare magari una città costiera. Vediamo, dai. Allora, sblocchiamo subito la goguet. L'ilcum non ci serve. Teniamo soltanto la goguet. No! Tu devi salire. Sei tu che devi scendere qua. Allora, prossima carta. La tradizione militare ci dà la produzione di cavalleria. I generali? No, non ci serve al momento. Andiamo sul primo impero. E poi filosofia politica adesso in b-line. Qui un campo di barbari. Qui volendo si potrebbe fondare qualcosa. Abbiamo trovato cabula a nord, ok? Tutto dipende un pochino anche dal ferro che troviamo. Perché se qui trovassimo del ferro allora si perde tempo. Fede. I greci ci offrono una delegazione. Questa è interessante. Io gliel'ho già mandata. No, perché quasi, quasi, se non tocco Cardiff, questi non mi rompono le palle. Per ora, e poi in futuro... Ok. Tanto noto, con gran piacere, che qui c'è un campo che ho dimenticato. Andiamo subito a cercare. Il frombolino si fortifica. Tu rimani fermo. Andiamo avanti. Altro campo. Un costruttore in più. Vabbè, ragazzi. Andiamo a fare fattorie a questo punto. E qui le miniere. Ti prego, non un costruttore. Un emissario. Va bene, va bene, va bene. Questo farà incazzare i greci, però. Perché adesso Cardiff diventa alleata. Quindi abbiamo l'alleanza con Cardiff. E non è male. Siamo in un continente abbastanza disgraziato. Qui ci si ferma. Anzi, no. Iniziamo a pensare dove mandiamo il colono. Allora, se fondiamo la città qui, il colono mi deve andare subito a lavorare questo cervo e poi questo gesso. Spostiamo anche il fromboliero a difesa. Va bene. Va bene. Allora, la lavorazione bronza arriva fra cinque turni. In Roma mi fa un altro guerriero. Il gattone mi deve esplorare questa zona. Come si fa a passare dall'altra parte? Non si fa. Segnerebbe passare dove c'è questa unità, ma mi bloccano. Intanto sto ninja è già stato costruito. Benvenuti ai difficoltà e divinità. Ho fatto divinità? Ah, sì. Sì, sì, si vede. Allora, avanti. Tu ti metti in posizione. Tu pure. Questo ha un boost. Due, questo due no. Questo quanto ha? Uno. Va bene, sali. Roma può difendersi così. Non hanno, non sembrano malevoli i greci, quindi tutto sommato per adesso me ne sto tranquillo. Gitargia. Gitargia è una religiosa e andiamo a vedere. Di solito se fossi in live ignorerei pesantemente queste cose, ma visto che non voglio fare cazzate. Apprezza le civiltà che non si insediano, conquistano città poste su piccole masse di terra. Ah, ok, se noi colorizziamo le isole questa si prende male, perché ha dei traumi infantili. Delegazione, benissimo, accettata. Tu preparati a fare un B. Abbiamo Lungdunum. Cesare fonda Lungdunum. Caruzza sta cosa, mi piace. È tipo L'apostrofondra. Qui creiamo subito un campo. Qui creiamo subito una gesseria. Adesso noi prendiamo il nostro guerriero, lo andiamo a portare qui dove c'è il fiume e lo fortifichiamo qua e diventa un po' la nostra difesa. Allora, forse Roma potrebbe fare una cosuccia adesso. Vediamo un attimo. Se io mollo questo mais e prendo quest'altro, faccio il favore a Lungdunum che può iniziare a lavorare questo mais e quindi Lungdunum cresce molto più velocemente. Ed è meglio. Quindi, di conseguenza, che cosa potremmo fare da queste parti? Al momento poco o nulla, però un monumento ci serve come per espandere l'influenza culturale altrimenti i greci ci devastano. Quindi andiamo di monumento. Ok, qui abbiamo un boost. Potremmo fare una minierina? No, in realtà no, vado a fare una fattoria. E questo boost mi va a lavorare le pietre. Ok. Tanto il gattone ce l'ha fatta passare dall'altro lato. Cacao. Questa è una zona bellissima da colonizzare, in teoria. Però non so come sono messi i greci da questo lato. Allora, il guerriero 2 va qua. Il guerriero scarso li manda dentro Roma. E... Vado a fare un altro colono. Vado a fare un altro colono. Perché adesso, se vediamo il ferro, dovremmo andare a colonizzarlo. Il bronzo. Allora, intanto la pietra la prendiamo. Non c'è il ferro, vero? Si fa presto così, guardate se non sapete se c'è il ferro. Cerca. Qui. E allora il colono va esattamente lì. Il colono va esattamente lì, ragazzi. Non ci sono cazzi. Sì, fondiamo sul lago. Abbiamo cavalli, cervo e un buon pascolo. Tra l'altro potremmo addirittura, in teoria, fare un luogo santo vicino a una meraviglia naturale. Cosa che non farò assolutamente. Ok, fatemi pensare. Che cosa ci darebbe una mano adesso? Beh, sicuramente l'irrigazione per andare a prendere la seta. Tutti i fortifichi. Tuffa il gattone. Allora, se io blocco queste caselle, se io blocco queste caselle, i greci non arrivano in questa zona che voglio colonizzare. Quindi la andrò a colonizzare io. Se il guerriero di Kabul e il gatto rimangono fermi a bloccare la zona, praticamente bagghiamo il pathfinding dei greci e dovremmo arrivare per primi noi. Politiche. La goghe, per il momento la teniamo. Teniamo tutto. E anche la produzione. Qui ti blocchi, così qui praticamente teniamo fermo tutto. Ah no, i greci sono passati da sopra per qualche motivo. Forse si imbarcano già. Forse hanno già la tech. Possibile. Possibile. Allora. Non è che possiamo fare tantissimo, eh. Dobbiamo portare pazienza adesso per qualche turno. Va bene ragazzi. Delegazione, benvenuta alla chitarcia. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Ditemi cosa ne pensate di Giulio Cesare. Come avete visto, per adesso il bonus cosa c'è valso? 200 euro in più. Se avessimo avuto Traiano, avremmo avuto qui un monumento gratis. Se io compro un monumento, quanto mi costa? 240. Quindi Traiano qui sarebbe già più forte. A livello prettamente numerico. Però, vediamo. Sotto con i commenti. Vi ringrazio per essere rimasti con me. Ci vediamo molto presto con il prossimo episodio. Grazie. Grazie.